Cominciamo con una domanda da parte di Vincenzo. Salve fratelli, oggi vi scrivo per chiedere a fratello Giuseppe un suo parere sulle comunità Amish in America del Nord. Come forse già saprete, gli Amish rifiutano la società moderna con tutti i suoi confort e relative eventuali abominazioni. Lì non ci sono televisioni né cellulari, discoteche, nightclub, bar, tal che la pornografia e la prostituzione e la blasfemia non possono assolutamente tentare qualcuno. Le vesti sono semplici e coprono bene i corpi delle donne come degli uomini. Non esistono costumi sexy. I bambini vengono istruiti ed educati ai valori cristiani dentro la comunità, avendo la possibilità a 18 anni di poter uscire nel mondo, ovvero nella società, per provare, conoscere ed infine decidere se rimanervi o tornare nella propria comunità. Un giorno mi piacerebbe andare in America per entrare e vivere in queste comunità antimoderne, fondate esclusivamente sull'osservanza delle sacre scritture. Fratello Giuseppe, cosa pensi degli Amish e dei miei propositi? Puoi darmi qualche consiglio? Vincenzo. Grazie Signore. Ciao Vincenzo. Ti benedica. Allora, gli Amish sono gente meravigliosa. Sono cristiani che vivono in America. Sono radicati da secoli fa. Hanno rifiutato ogni progresso, il che li ha protetti da ogni diavoleria. Non praticano aborti, porcherie sessuali. Cioè, è gente meravigliosa. Ci hanno le loro dottrine, sono cristiani, del ramo protestante sono, se non mi sbaglio, sì. Insomma, guarda, se tu desideri di unirti a loro, c'è la mia benedizione. Ah sì? Assolutamente. Però neanche ha controllato le dottrine, e se hanno false dottrine? Ma io guardo i frutti. Sicuramente avranno qualche dottrina che magari potrebbe non essere biblica, però non è che lo fanno per ingannare. Semplicemente ognuno ha la sua dottrina, ecco. Capito? Sì, sono semplici e dolci e puri. Diciamo sono puri perché sono fuori dalla società, dal mondo e vivono in un modo molto pulito. Sì, sì, sì. Guarda, ho trovato un video, stavo dando un occhiato sui video. Ho trovato un video ieri sera di una quindicina di minuti, ci sono due giovani donne, penso che sono polacche, però vivono in America, sono americane, parlano inglese e polacco anche. E questa ragazza però parla perfettamente italiano. Una di queste due ragazze, una ragazza simpatica, ora ha 20-25 anni. E vanno in giro con la macchina, hanno fatto una visita agli Amish, e hanno controllato tutto, tutto il modo di vita, eccetera, quasi tutto. E l'ho visto che, insomma, è un video molto positivo, l'ho messo sulla radio, lo potete visionare, guardate Amish sulla radio e cliccate, vedete un video interessante. Va bene, naturalmente se andiamo a spaccare il pelo troveremo delle differenze, perché sono una denominazione, non sono, per esempio, noi non siamo una denominazione, non ci interessa settarismo, siamo aperti a tutti. Va bene, gli Amish hanno le dottrine, credo che sono protestanti, e quindi loro non credo che accettano il cattolicesimo, come facciamo noi che accettiamo protestanti, cattolici allo stesso livello, quello che fa la differenza è l'amore, l'umiltà, i frutti. Va bene, quindi ci sono delle differenze sicuramente, ma però non è che dobbiamo essere troppo giusti, troppo perfetti, troppo presuntuosi, che è la nostra religione migliore. Gli Amish non gli interessa di fare a gara quella è la migliore religione, quindi rispettiamoli e davanti a Dio alla fine i primi della fila saranno quelli che hanno più amore. Va bene? Va bene? Sì. Questi sono gli Amish. Una domanda, tu dicevi che per te va bene andare in America, unirsi a queste comunità Amish, però da quello che sappiamo dalle profezie del tempo della fine, è saggio andare in America durante la tribolazione, perché il Signore dice in Apocalisse 18.4, parlando di Babilonia, dice uscite da essa, o popolo mio, non partecipate ai suoi peccati. È vero, è vero. Questo è un altro capitolo, questo qua. Lui mi chiedeva cosa pensavo di unirsi agli Amish. Non so se ci sono Amish fuori dall'America, negli Stati Uniti, non lo so. Non è che mi sono informato troppo, insomma. Quindi io parlavo solo a livello spirituale, dottrinale, eccetera, per me potete unirvi tranquillamente e Dio vi benedica. Sono gente meravigliosa. Ora, riguardo andare in America, questo qui è forse l'unico punto contro. Questa è l'unica cosa. Va bene? Mi auguro, prego, che nelle prossime proteste che arriveranno quegli scalmanati a bruciare macchine, negozi, che non vadano a scocciarli, che l'angelo del Signore con la sua spada protegga questa gente, che non si avvicinano i figli del diavolo a bruciare cose. Andare in America io lo sconsiglio a tutti. Amish va bene, se uno vuole diventare un Amish. è una vita molto interessante. Anche i video che ho visto ieri sera dicono delle cose molto interessanti. Tu a costruire una casa, tutti ti aiutano. Non devi prestare soldi in banca per pagare i lavoratori, eccetera. Ti aiuta, la comunità ti aiuta. ti costruiscono la casa di dimensioni normale, insomma, una casa che ti serve, in tre giorni te la costruiscono. Tre giorni. Come fanno? Andare a scoprirlo. Però arrivano in 60. Arrivano a squadra di 60 muratori, ma il carpentier arriva, arriva l'idraulico, l'elettricista arriva. Tre giorni tu hai la casa. Cioè, una unità che non vedi da nessuna parte. No, non esiste. Cioè, le chiese del mondo sgangherate, l'audicea, 99% addormentato sulle panche a pregare, non possono avvicinarsi a queste cose qui. Cioè, va bene. E, vabbè, questa è la situazione. Quindi, sì, andare in America, cioè, da quello che io capisco della profezia, l'America sarà distrutta, Babilonia la prostituta, però non gli amici. Gli amici non fanno parte di questa America. Allora, sono come la sposa nel deserto. Sono isolati. La distruzione è dopo il rapimento. Quindi, i cristiani saranno rapiti prima. Dopo il rapimento. Come? I cristiani saranno rapiti prima della distruzione. Sì, da quello che vedo io, l'istituzione dell'America, Apocalisse 17 e 18, da quello che capisco io, non voglio essere dogmatico, ma per questo ho capito dalla scatologia, dalla cronologia, progresso, cioè, specialmente nel libro dell'Apocalisse, lì si vede che, insomma, in tanti modi, l'Apocalisse 14, prima mia immettitura, c'è questo rapimento, 14, e poi, capitolo 15, verso 1 e 2, si vede che sono in cielo, avendo vinto il marchio della bestia. va bene, quello è, poi si vengono versate, al momento della prima coppa dell'ira, i santi sono in cielo, quindi lui, l'ira di Dio, i santi sono in cielo. Alla settima, alla settima coppa, Apocalisse 16, alla fine, settima coppa, terremoto, la grande città, America, si spacca in tre parti, alla settima coppa, Apocalisse 16, e la settima coppa termina che Dio si ricorda di Babilonia e qui entra nel capitolo seguente, quindi qui vediamo un progresso che è letterale, perché dice la settima coppa, quindi c'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la settima coppa, c'è una progressione, la settima coppa, Dio si ricorda di Babilonia, qui entra Apocalisse 17, Babilonia viene distrutta, quindi io sono quasi sicuro che Babilonia viene distrutta dopo il rabbimento. Certamente ci sarà violenza, come abbiamo visto già Ferguson, abbiamo visto diversi stati in America che bruciavano qui, bruciavano là, e quando questi violenti, probabilmente come io vedo che Trump sarà eletto, spero di non sbagliarmi come con Hillary Clinton, anche se lei è stata eletta, ha vinto il voto, però ha perso quello dei governatori dello Stato. ma spero, credo di non sbagliarmi, che Trump sarà eletto, cioè tutte le indagini di opinioni lo danno per perso, però quella è tutta una messa in scena dei, tu devi guardare chi sono che fai indagini di opinioni, la CNN l'ha fatto, la CNN è quella lì un partito politico marxista, cioè loro fanno vincere chi vogliono, basta che guarda bene e chi intervisti, dove che fare indagini e fai apparire quello che ti pare, quindi Trump secondo me sarà eletto, a quel punto lì scoprirà l'inferno, l'inferno in America e va bene perché Biden non l'accetterà, dirà no tu hai imbrogliato, qua e là, e se Biden vince Trump dirà lo stesso, perché infatti c'è un sacco di imbroglioni, c'è gente che è morta vent'anni fa che hanno votato nell'ultima votazione, capito? Sai che cadavri seppelliti da vent'anni hanno votato? Ah sì? No. È un mistero questo qui, cioè quindi ci sono, adesso i voti lo fanno per elettronica, per computer così e quindi imbroglia la grandissima e quindi nessuno si fida di nessuno, una nazione così evoluta, così intelligente, ma non sanno neanche votare. Il voto è più importante dalla storia degli Stati Uniti unificato dopo la guerra di secessione, perché qui siamo, cioè siamo davanti alla guerra civile, può scoprire una guerra civile, d'accordo? Va bene, questo è tutto. Grazie. Sì, va bene. Quindi Vincenzo devi pregare e chiedere tu al Signore se il tuo posto è lì o in altra parte. Il Signore deve mostrare a te personalmente. Sì, non ci saranno guerre atomiche in America, non è quello, non lo vedo, guerre atomiche. Vedo guerre atomiche nel mondo, in America non ne vedo fino al rapimento. E poi l'America prende la batosta finale che Dio riserva la punizione. Cioè dopo il rapimento è logico, Dio raccoglie la sua chiesa e allora bombarda il resto. E l'America diventerà un deserto atomico, diventerà un grande buco perché tutti i missili atomici dei sottomarini e i missili intercontinentali russi, americani, adesso anche la Corea del Nord ha costruito un missile intercontinentale che è più grande di qualunque altro al mondo esistente, sia russo che americano, che c'è la testata multipla, può mandare 10-20 bombe atomiche con un solo missile in 10-20 città diverse. Quindi, insomma, e poi il Pakistan e poi anche l'Iran che sta facendo quella... Insomma, scaricheranno tutto sull'America, l'America diventerà un deserto atomico, diventerà il regno dello scarafaggio e dello scorpione. Va bene? Il deserto atomico. Come dice l'Apocalisse 18. Avanti Angela. Grazie. Grazie.